Ciao a tutte! Oggi parliamo di un colore che mi sta veramente a cuore ed è il colore rosso. Sappiamo benissimo quanto il colore rosso aggiunga energia e vitalità al nostro look e quindi in previsione della prossima stagione è carino pensare di integrare nel guardaroba qualche cosa in colori accesi che aiuti a scaldare e a dare più dimensione al nostro look. Questo rosso ciliegia per esempio è un rosso particolarmente raffinato perché ha una sfumatura più fredda che vira verso il blu e che può essere declinata facilmente in abbigliamento anche modaiolo cittadino e si declina benissimo con il contrasto con il nero. Sicuramente una versione di rosso più caldo, più vibrante come questo rosso geranio aiuta a rendere il look da lavoro più assertivo e dare un'immagine più decisa e nello stesso tempo di forte personalità. Per chi non ama i colori particolarmente accesi e non ama sentirsi esposta con un colore intenso come i rossi puri sicuramente tutte queste varianti di borgogna, di marsale, di bordeaux aiutano a scaldare il guardaroba a dare un senso di raffinatezza considerando anche che sono colori che si declinano non solo con il blu non solo con il nero, non solo con il grigio ma anche con i colori chiari come il panna, il crema, il biancolatte. E per chi non ama invece immaginare di indossare un capo in tonalità rossa può sempre immaginarlo in queste versioni più o meno intense, più o meno accese da magari abbinare per un tocco davvero personale alla sfumatura del rossetto quindi dal rosso puro e estremamente sexy che vediamo declinato anche nella pochette e nella scarpa col tacco arriviamo a un rosso più accogliente, morbido e informale come questo rosso mattone che vedete in basso e che dà comunque un senso di calore e di morbidezza al look quindi io spero che questa carrellata col rosso vi sia piaciuta vi aspetto per il prossimo appuntamento con altri colori ciao a tutte